ciao ragazzi sono simon luca torno con un nuovo video sempre per audi a3 8v sedan può essere applicato dalle 2012 fino al 2019 in pratica andremo a cambiare queste modanature listelli in tutta la macchina come vedete le avevo già cambiate però ho scelto un colore carbonio argentato e invece preferisco il carbonio classico siccome adesso vi faccio vedere la mia macchina è tutta carbonio classico come potete vedere c'è il carbonio qua c'è il carbonio su tutta la plancia e vedi qua bisogna andare a cambiare mettere le modanature tutte le quattro portiere in carbonio vero originali audi e per cambiarli sarà abbastanza semplice diciamo tranne per le portiere che comunque hanno due viti dalla parte interna dietro quindi staccare il pannello e andare ad avvitare di queste viti per il cruscotto che sono un pezzettino che è qua dietro questo pezzettino qua e questo pezzo qua è invece molto più semplice con due diciamo chiavi che sono le solite con il quale si andava per togliere la radio adesso per questa tastierina qua hanno fatto lo stesso principio quindi ci sono due chiavette qua dentro che basta che vi comprate esatto con un pacco di questi qua che vi servono sono delle leve in plastica per evitare di rovinare il veicolo eccetera e all'interno se vedete ci sono delle cose di ferro che sono le chiavi che serviranno per togliere questa tastiera in modo tale che potremo andare ad incastrare in semplicità le nuove listelle stavamo dicendo entriamo con queste chiavi in modo tale da far sganciare ok come ben potete vedere la vostra tastierina verrà via perché queste chiavi vi permettono di esatto se vedete qua sotto di sganciare la cosiddetta clip ora potrete rimuoverle e diciamo come per magia ad incastro verranno via le vostre modonature e voilà come potete vedere qua abbiamo quella in carbonio argento che noi andremo a sostituire col carbonio normale sulle originali sono in plastica grigia andiamo a sostituirvi la modonatura in carbonio ok olè ce l'abbiamo fatta questo è il listello carbonio color argento e quello che andremo a sostituire è questo qua listello identico ma in colore carbonio originale audi basterà farvi la pressione necessaria su tutti i punti di ancoraggio e voilà l'effetto è magnifico in carbonio così andiamo quindi a rinserire la tastiera centrale audi e vuole come potete vedere perfettamente a filo e colore carbonio passiamo alle portiere andiamo a smontare quindi questa parte qui che diciamo il pannello della cassa dell'impianto bose nel caso se l'abbiate base non c'è nessuna cassa quindi va rimosso e avremo una due e tre viti qua sotto svitiamo le tre viti una volta svitate le tre viti il pannello interiore dovrebbe venire via con un po di forza brutta ok è un po duro giustamente perché comunque deve agganciare la portiera in sé arrivato a questo punto si solleva il pannello intero ok deve rimanere giù nella sua posizione e come vedrete qua dietro avrete dei cablaggi allora o vi fate di dare da qualcuno lo tenete su e svita le viti e scastra l'oggetto oppure staccate diciamo i due fili che sono uno della maniglia e uno della cablatura correlata alla suddetta porta dietro troverete altre due viti che saranno sempre con punta torque però di una misura inferiore si va a svitare le due viti e con una leggera pressione si va ad obbligare l'oggetto a venire via recuperiamo il carbonio e si andrà ad applicare con incastro questo e poi la pressione quindi si andrà ad incastrare prima davanti e poi a pressione si va di inserire la moda natura il lavoro è riferito uguale identico per tutte le quattro le porte qui andiamo ad inserire le viti vi faccio vedere da più vicino in pratica vedete ho staccato questo dall'apposito gancio della maniglia e qui c'è ancora la trocca e qui come vedete ci sono le due viti da sganciare dell'incastro della moda natura interna ora andremo a riapplicare il pannello alla portiera si incastrerà prima da sopra e poi tutti i punti d'ancoraggio vari non abbiate paura come potete vedere la moda natura è stata cambiata rimettiamo le tre viti e la copertura dell'apposito vano per la cassa della borsa che dire il video è finito spero vi sia piaciuto e vi sia comunque utile come video per i lavoretti che potete fare in casa da soli e niente al prossimo video ciao ragazzi